Salve bibitine e bibitini e benvenuti in questo nuovo video! Sì, la voce è molto sexy per il semplice motivo che anch'io sono un comune mortale e di conseguenza mi sono ammalato. Ed è stata una cosa molto strana, dato che prima è venuto mal di gola, poi la tosse. Mo' la tosse mi è quasi passata e c'ho questa bellissima voce. Vabbè, dettagli. Ma siccome sono un bravo content creator, non volevo lasciarvi senza questo contenuto, perché essenzialmente ci tenevo davvero tanto. E di conseguenza, oggi siamo qui con la top 5 letture fatte da sottoscritto durante il corso del 2022. Detto questo, potete correre in cucina a prendere dei popcorn e una bibita fresca, per cui se vi è meglio quest'ultimo contenuto del vostro Malta. Perché oggi vi andrò a dire le migliori letture di quest'anno, ma prima di farciò come sempre, sigla! Piccola precisazione però prima di iniziare. Come già accaduto per il video dei flop, vi devo dire un paio di cosette prima di illustrarvi quali sono state appunto le serie che maggiormente mi sono piaciute quest'anno. Punto numero 1. Si tratta di serie che non per forza devono essere uscite nel corso del 2022. Possono anche essere dei recuperi fatti dal sottoscritto. Punto numero 2. Sono serie che magari io ho già cominciato a leggere l'anno scorso, o anche anni prima. Avete capito bene? Perfetto, possiamo cominciare! E il primo manga che già vi avevo spoilerato nel videoacquisti è Gannibal di Masaki Ninomiya. Ecco qui il primo volume dell'edizione italiana edita dalla Ikari. In questo anno solare ho avuto modo di leggere praticamente tutti i numeri, ad eccezione del numero 1, che lessi a novembre dell'anno scorso. Gannibal è una storia macabra, piena di cose indicibili e soprattutto di tanta violenza. Il tutto coronato da una sana dose di cannibalismo che non fa mai male. Scherzi a parte, la storia è riuscita a prendermi sin dalla prima pagina, grazie ai suoi personaggi, almeno nella maggior parte, ben scritti e caratterizzati, ma soprattutto grazie alla sua progressione lenta ma efficace. Difatti, soprattutto nei primi numeri, la narrazione scorreva molto lenta e il nostro protagonista, Puliziotto, scopriva pian piano la cacca che c'era dietro a questo villaggio di pochissimi abitanti, facendo crescere all'interno del lettore quel senso di inquietudine e sgradevolezza. Questa serie è stata una vera e propria scoperta anche per il sottoscritto, non gli avrei dato nemmeno 2 euro. Più che altro perché a me i polizieschi non è che facciano impazzire, ma il fatto che siano presenti così tanti elementi fuori dal comune e altrettanto macabri mi hanno fatto salire l'hype volume dopo volume per la sua storia. Veramente un manga incredibile, ricco di colpi di scena e tanto, tanto, tanto splatter. Se siete amanti di questo genere sicuramente Gandibar potrebbe fare al caso vostro. I disegni dell'autore poi sono un qualcosa di incredibile e mi lasciano a bocca aperta più e più volte nel corso della lettura di un singolo tankobon. Sono piuttosto sicuro che nel 2023 Gandibar andrà a concludersi e io sono pronto. My body is ready. E passiamo dai cannibali ai morti viventi. Difatti sono qui con I am a hero di Ken Goanazawa. Ecco qui il primo volume di questa nuovissima edizione italiana curata da J-pop. Di Ayama Hero ne ho parlato già 1747 volte su questo canale, però quest'oggi sono qui per farlo un'altra volta. Questo non è il solito manga sugli zombie, fatto da tanta violenza e ignoranza. Anzi, viene posta molta enfasi in quello che è il vero protagonista di quest'opera, ovvero l'uomo e tutte le sue debolezze. Ido infatti, protagonista di questa storia, non è qualcuno assimilabile a Rick Grimes per farvi capire, protagonista di The Walking Dead. Anzi, è una persona comune come posso essere io o come potete essere voi che state guardando questo contenuto. E fidatevi che ha molte più debolezze rispetto ai punti di forza. E il suo autore è davvero molto bravo a sfruttare queste cose negative del suo personaggio principale come fattore chiave per procedere nella storia. Storia che non ha colpi di scene eclatanti, oddio qualcuno ce l'ha, ma procede molto a rilento con azioni che non hanno niente dell'incredibile, sono cose abbastanza comuni, no? come i personaggi appunto, ma che sapranno tenervi incollati al Tankobon dalla prima all'ultima pagina, perché comunque rimane quell'alone di dubbio su quello che potrebbe succedere da lì nelle prossime tavole. Lo voglio ribadire per l'ennesima volta, Ayama Hiro non è il classico manga sugli zombie, fidatevi di me quando vi dico questa cosa, poiché sono un massimo esperto di questo medium, cioè io gioco tutto, leggo tutto, guardo tutto, cioè io sono un esperto di zombie, sono uno zombologo. Il tratto di Anazawa poi è tanto carino quanto particolare, e una cosa che ha appretto tantissimo nel suo stile sono queste splash page, ripetute per più pagine di fila, cambiando però qualche dettaglio. È un qualcosa di incredibile e da pipo bello duro. Già quando vedi il suo annuncio nel 2021 non ebbi nessun dubbio, questo manga sarebbe rientrato di diritto all'interno della top 5 letture del 2022. E così è stato. Parlo di Alice in Borderland in questa edizione 2 in 1, edita in Italia da J-Pop. Se vi ricorderete bene, misi questo manga all'interno delle 5 uscite manga che aspettavo di più nel corso di quest'anno, e l'attesa è stata ampiamente ripagata. È un gran bel pezzo di opera. Non mi vergogno a dirlo, come la maggior parte di voi probabilmente conobbi questa serie di Aroaso grazie alla live action uscita su Netflix, una delle poche secondo me uscite decentemente da quella piattaforma e non solo. E me ne innamorai, tant'è che lo vedi addirittura due volte. E niente, aspettavo davvero tanto l'uscita della sua controparte cartacea nel corso di quest'anno, appunto. La storia non si discosta tantissimo, seppur cambiando qualche elemento da quella che è stata la sua controparte filmata. Anzi, è pressappoco uguale. Stessi plot twist, stesse cose, bene o male stessi game, ma soprattutto stessa carica emotiva. L'emotività, infatti, è un fattore chiave per quanto riguarda Alice in Borderland, e più volte quel bastardo del suo autore giocherà con le vostre emozioni, andando magari, che ne so, a far fuori il vostro personaggio preferito. E questa è una delle cose che però ho apprezzato di più, perché è quell'incertezza nel vedere sopravvivere magari un determinato personaggio, ti fa venire voglia di sfogliare le pagine lentamente, velocemente scusate, per sapere quale sarà il suo destino da lì a pochi capitoli. I game poi sono ben strutturati, ma soprattutto ben diversificati l'uno dall'altro, in modo tale da togliere quel fattore di ripetitività che magari potrebbe saltar fuori in un manga di questo stampo. Si tratta pur sempre di un survival game dove appunto i partecipanti fanno giochi per sopravvivere. Ma ripeto, l'autore è stato davvero bravo a diversificare tutto questo aspetto. Cinque volumi sono usciti per ora in Italia, il sesso deve uscire tra qualche giorno, e non vedo l'ora di vedere cosa il 2023 riserverà per questa serie, che sicuramente andrà a concludersi prima dell'estate. Paradossalmente, ma si tratta di un'inezia, la cosa che meno mi convince di Alice in Borderland è il suo disegno. Secondo me non troppo adeguato per quello che è il tono della storia. Ora non so se seguite il mio ragionamento, ma spero abbiate capito. Troppo poco rozzo forse per una storia di questo stampo, ma ripeto, si tratta di un'inezia e continua a piacermi tantissimo. La più grande sorpresa però di tutto il 2022 è stato sicuramente IQ, che sto appunto recuperando in questa edizione edita da Star Comics in uscita con la Gazzetta dello Sport settimana dopo settimana. Se mi seguite da un bel po' di tempo saprete come abbia fatto passi in avanti con il genere Spokon. Difatti, se vi ricorderete, giusto un anno e mezzo fa dicevo che a me non piaceva nessun manga di questo tipo. Ma porca vacca se sono stato smentito, prima slam dunk e poi questo piccolo fumetto che stringo tra le mani. IQ di frudate è una storia sulla pallavolo, sport che bene o male mi è sempre piaciuto e che ho anche praticato per circa 3 o 4 anni. Quando ero più giovane, ora sono vecchio, e lo sport non è che faccia troppo per me, forse solo la palestra ma dettagli. E come ho già avuto modo di accennare nello scorso videoacquisti, frudate è davvero bravo nella caratterizzazione dei suoi personaggi. E non mi riferisco solamente a quelli del Karasuno, la squadra principale protagonista di questa storia, ma anche degli avversari e degli altri team. Difatti non sarà raro empatizzare con i personaggi che vengono sconfitti all'interno di questo manga, anzi come ho già avuto modo di accennare appunto anche questo nello scorso contenuto, probabilmente uno dei vostri personaggi preferiti, se non il vostro personaggio preferito in assoluto, non sarà uno del Karasuno, non sarà Hinata, non sarà Kageyama, ma con molta probabilità un membro di una squadra avversaria. Questo perché, e lo vado a ripetere, frudate è davvero bravo a farci empatizzare con i personaggi. I protagonisti poi sono ben caratterizzati, ognuno col proprio background e la propria storia e il proprio obiettivo. E pian piano andremo ad osservare quello che è stato il loro percorso di crescita come giocatori ma soprattutto come persone. Ed è bello magari poi, arrivati alla lettura, che ne so, del volume 40, tornare indietro al volume numero 2 e osservare appunto con mano o con occhi quella che è stata appunto la crescita di questo personaggio. Veramente un manga incredibile. Se qualche anno fa mi avessero detto, Malta, nel 2022 Aikyu sarà una delle tue letture preferite, io probabilmente sarei scoppiato a ridere in faccia alla persona mia interlocutrice. Spendo anche qui due paroline per quanto riguarda il disegno, molto 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 bello e in costante miglioramento. E l'autore poi è molto bravo a darci la sensazione d'impatto delle schiacciate dei nostri protagonisti. Veramente tanta 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 roba. Ultima serie, ma abbastanza scontata, 20 Century Boys di Naoki Urasawa. Eccolo qui in tutta la sua bellezza. Edito in Italia da Planet Manga. Che dire, semplicemente incredibile. Un capolavoro con la C maiuscola. Sinceramente non saprei nemmeno da che parte iniziare se non dicendo che è veramente stupendo sotto qualsiasi punto di vista. Trama, personaggi e bla bla bla. La storia poi narrata su più timeline è davvero intrigante e ricca di colpi di scena e più volte saprà sorprendervi. I personaggi sono tutti ben caratterizzati, inutile a dirlo, e la sceneggiatura del maestro Urasawa è veramente incredibile. So che sto dicendo solamente bellissimo, incredibile, stupefacente, però non so, non mi vengono nemmeno altre parole per descrivere quello che è 20 Century Boys. Passo subito allo stile di disegno, che è il classico di Naoki Urasawa, essenzialmente. Io, come ho già detto più volte, adoro il netto contrasto che c'è tra i personaggi e i paesaggi. Questi ultimi molto più realistici rispetto appunto la controparte umana. L'unica cosa che mi sento di dire è che talvolta faccio fatica a distinguere un personaggio dall'altro, perché alcuni si assomigliano davvero troppo, però ho piccolo prezzo da pagare per leggere cotale bellezza. E queste erano le 5 migliori letture fatte dal sottoscritto durante quest'anno solare. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma soprattutto ditemi quali sono state per voi le cose più belle. Detto ciò vi ricordo di venirmi a seguire anche sul mio canale Viola, trovate il link in descrizione, di entrare nel gruppo Telegram e di seguirmi su Instagram, comunque trovate tutti i link qua sotto. Detto ciò attivate la campanellina per restare sempre aggiornati e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Colgo inoltre l'occasione per farvi augure di buone feste e buon Natale, dato che probabilmente il prossimo video uscirà dopo il 25. E niente, ci possiamo salutare e dunque vedere in un prossimo video. Ciao!